ah 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 scappa 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 ahhh bentornati ragazzi sul canale di giochi next gen siamo nuovamente con Loredana ciao ragazzi per la solita rubrica lore in game la rubrica più amata dagli italiani ormai lo sappiamo oggi siamo qui con un nuovo gioco bellissimo stupendo che si chiama frat boy blind date horror spieghiamo prima di iniziare praticamente questo povero ragazzo deve scappare da delle bellissime gnocche che lo vorranno baciare è vero? meglio di Belen chi è quella là? ragazzi appena visto la donna porco esiste la donna porco ha visto la ciammella da mangiare ragazzi qua ci stanno spiegando quello che dobbiamo fare ossia dobbiamo scappare dalla grassona praticamente level 1 che la grassona si è già innamorata di noi vai 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 gioca gioca ragazzi vedete con le frecce vi dicono cosa dovete fare voi dovete cercare di non farvi prendere dalla grassona scappa 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 ecco qua guarda ragazzi non so se è rifatta però devo dire che insomma dove sta? si ok zia mangia di meno chi sono questi due qua? sembrano quelli degli schifidol guarda quello sembra quello dello schifidol con il naso si devi andare alla cassa nel frattempo devi cercare di fare il giro lungo così nel frattempo è lenta ok girati verso la cassa scappa 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 ma quello per me sta mangiando con la bocca scappa 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 vai vicino alla cassa girati ora via 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 ora devi scappare dalla porta penso che sei bloccata la cassa scappa 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 ok score 233 ragazzi si è superato il primo ieri non so quanti livelli sono ma se sono tutti così andiamo come on let's go baby secondo livello ragazzi oddio oddio che c'ha quello c'ha ragazzi ecco guarda quanto altro che beleno ragazzi guardate qua è morto e chi è quella non lo so chi è miss mosca madonna mia quanto è bella no 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 devi fare il giro largo se no ti be madonna mia ragazzi guardate le mosche che belle che sono ragazzi provi una volta io ho fatto solo il primo livello per vedere di che cosa si trattava praticamente ragazzi dovete scappare cercando di fare il giro lungo così avete il tempo di andare al bar prenotare dal mitico barista qua che continua a fare gioca ci ho detto prenotare giovane ah qua dovete bere ora cioè magicamente vi ha già portato da bere il barista ecco vedete voi dovete cercare di scappare velocemente muoviti 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 sta arrivando via ecco tu non ci può male tu guardate qua ok ragazzi ci abbiamo fatto terzo livello hai capito com'è vai col terzo livello vediamo chi sarà il nuovo dolce che bella ragazzi guardate che bella oddio no che be da notare i peli sopra il naso ragazzi è proprio un tocco di classe aiuto ho visto cosa è spruzzato no non ho visto cosa è spruzzato grazie a dio che è quello sto dormendo guarda ora sì ma l'obiettivo buah i profoli sì ma l'obiettivo è quello di non farsi prendere no quello di farsi dai aiuto la tua rubrica la gioco io che dai aiuto scappa dal vetro al banco vai 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 con le frecce oddio ragazzi basta faccire perché non ci faccio vedere qualcosa che spruzza pus che schifo mi si blocca non lo so mi si blocca guardate quello come sta incazzato che non riesce a mangiare oddio ragazzi questa mi seguo no vattene vattene brutto cesso però corre eh ok come corre mazza ma non potresti no 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 mi ha preso no no ragazzi siamo rimasti bloccati attenzione non mi muovo più da qua lei è rimasta bloccati oppure pronti ragazzi abbiamo finito di cucinare ok via no ecco qua mi stavo aspettando ragazzi è difficile più sicuramente più diventa difficile più diventano insistenti facciamole fare un po' il giro di tutto il bancone ragazzi ecco qua è furba ragazzi è molto furba no 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 perché cammino come se mi sto per pisciare addosso no ragazzi è arrivata già è un incubo via che schifo riprogramo no 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 Grazie a tutti. 50 tentativi dopo è qua. Neanche 20 oggi. Bravo. Ragazzi sono lentissimi. Veloce a prendere quella cazzo di ordinazione. Scusa ma perché sto giocando io a livelli che dovresti fare? Non lo so. Via 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 ragazzi scappate. Scappate scappate scappate. Tu hai il tasto più veloce? Io ho il tasto più veloce ragazzi attenzione. Il tasto più veloce del west. Ragazzi il più veloce è lei questa maledetta bastarda. Con questi brufoli maledetti. Vattene staccati. Non puoi ordinare. Ragazzi non mi fa ordinare. Ragazzi non ci fa ordinare ragazzi non ci fa ordinare. Farebbe di tutto per avere questo qui. Che poi sembra il fratello di Jax. Adesso andiamo a fare il linee. Guardatelo bene. Aiuto madonna mia ragazzi aiuto ma... Ragazzi diventa sempre più veloce. Più passa il tempo. E più diventa veloce. Facciamo le... Ragazzi non mi dà il tempo di ordinare. È impossibile questo livello. Lo sto odiando. Credetemi. Muoviti. Muoviti. Via via via. No ragazzi no. Madonna ragazzi. Sono iniziato a nervosirmi. Maledetta. Brufolandia. Maledetta Brufolandia. Vattene. Staccati dal mio culo. Brufolandia non ti voglio. Che fai schifo al cacchio. Vattene. Vattene. Via via ragazzi. Ma è pure furba. Madonna mia poverino. Ragazzi non so più cosa fare ragazzi. Via ragazzi ce l'ho fatta. Ragazzi incredibile ce l'ho fatta. Non pensavo. No. Non ti bloccare. Non usare bloccarti. Questo è il bastardo ragazzi. Questo è il fratello. Questo è il fratello ragazzi. Quello è un bastardo. È il fratello sicuro. Via 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 via. Via ragazzi muoviamoci. Muoviti. Sì sì sì. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse ce l'abbiamo fatta. No. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Oddio. Quello è livello 4. Ma lo fai tu. Ragazzi vuoi vedere cosa succede? Vediamo chi è la nuova bocconcina. Oddio scappa. Corre. Oddio mio ragazzi. Corre. Oddio. C'ha la barba. Non sono a te i palloncini. Donna barbutta sempre piaciuta. Questa è un'altra trattura. L'ora che ti piace tanto. Donna barbutta. Secondo ragazzi. Attenzione ci prova. Ci prova. Ci prova. Di andare da le scale mobili. No. Sì sì. Devi scendere le scale mobili. Ragazzi ma perché ti sei bloccato? Via 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 ragazzi. Forse ce la facciamo in una volta sola ragazzi. Via 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 via. Via 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 via. Anni ti. No da dietro ragazzi attenzione. No ragazzi attenzione. Stava scappando. Attenzione attenzione attenzione. Ce la potrebbe anche fare. E ce la fa. E ce la fa ragazzi. ecco perché scappava ok ragazzi abbiamo finito grazie a dio è finito il mio anno di nascita tra l'altro e anche il suo tra l'altro quindi guardate illuminati con firme perché è già finito ricominciamo no anche perché ragazzi la rubica è la sua ha giocato lei bravissimo un applauso a Loredana che da te lo ha fatto il gioco ok ragazzi spero che questa rubrica vi piaccia noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile iscrivetevi al canale di Giochi Next Gen di Giochi Next Gen ve lo dirò bene ragazzi non è Giochi Next Gen scrivete Giochi Next Gen mi raccomando non dite com'è mi raccomando lasciate i like spolliciate commentate condividete spolliciate 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 ragazzi ok ragazzi non è niente è l'effetto di questo gioco che avete visto le è piaciuto moltissimo correre farsi inseguire perfetto ok ragazzi ci vedremo con altri giochi simili divertenti come questo niente ragazzi un saluto sia da me che da Loredana ciao ragazzi come sempre sotto trovate i miei contatti i DPSN Xbox Live Facebook Twitter e vi ricordo anche l'account Instagram in cui presto inizierò a caricare foto guardate il canale i vari gameplay eccetera eccetera quindi seguitemi anche lì per questo è tutto ci vediamo al prossimo video bella bella